Vado alla prima domanda del programma di oggi da parte di Carmen, una sorella che conosciamo da un mese, da novembre la conosciamo. Credo interessante per molti che si chiedono la meditazione, è cosa giusta o sbagliata, perché dà anche risultati buoni nella tua vita, positivi, ti senti meglio dopo che mediti. E certo, basta che chiedi a qualunque New Age, a qualunque, ti diranno che c'è aspetti positivi alla meditazione. Ci sono diversi tipi di meditazione e c'è una meditazione che invece di Dio, parleremo di questo oggi. Sì, Carmen chiede. Lo faccio anche online tutti i venerdì e sento che qualcosa è cambiato. Venerdì scorso mi sono sentita guidata da Gesù, anche le persone che hanno partecipato hanno sentito. La domanda è, è sbagliato meditare? Come mi devo comportare? Non voglio sbagliare. Grazie mille, un abbraccio e benedizione a tutti. Allora, lei continua a fare le meditazioni, però da quando ha iniziato il corso biblico un mese fa, adesso si sta chiedendo, è giusto o sbagliato? La meditazione. Si parla di questo tanto. In questi tempi moderni, in tante religioni, si dice che per essere più... to be more advanced and more cultured. Sentirti più progredita. And cultured, like you are very open-minded. E la tua cultura in aumento. Con la mente aperta si deve accettare anche queste cose. Molto aperta. La meditazione si pratica tanto in questi tempi. È giusta o sbagliata? Con Gesù è giusta, senza Gesù è sbagliata. Questa è la risposta corta. Va bene. La risposta lunga viene adesso. Allora, se evangelizzi gli altri, come tu dici, tu dici, senti che qualcosa è cambiato, venerdì scorso mi sono sentita guidata da Gesù. Anche le persone che hanno partecipato e hanno sentito. Guarda, dolce sorella, se lo scopo della tua meditazione è la gloria del Signore, di Gesù, quale Signore? C'è anche un Signore Hindu. Devi specificare Gesù. È importante. Quel nome è molto importante. Allora, se lo scopo è Gesù, raggiungere altri con la sua salvezza, allora questo scopo va bene. Va bene meditare? O va bene partecipare ai loro incontri? Beh, c'è anche la meditazione cristiana, sulle scritture. Mediti devi memorizzarle, mediti, cioè, a volte vai a vedere un tramonte, mediti sulla scrittura. Ah, sì, sì, sì. E c'è anche quella cristiana. Allora, va bene. Noi che seguiamo Gesù non vogliamo meditare però su niente che non sia la verità, basata sulla verità e solo la verità di Gesù Cristo. Cioè, andiamo a Giosuè 1.8. Ce l'hai nella tua lista, Giosuè 1.8? Giosuè 1.8, sì. Ecco, perché la parola ci insegna a meditare. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1.8. Quindi dice, allora meditano giorno e notte, quindi c'è la meditazione giusta, il Signore, Yahweh, la parola, le scritture, attenzione. Dice questo libro. Sì, uno può meditare anche sul diavolo, così fanno i satanisti. Tante modi di meditare. Gesù dice di pregare sempre. Prossima scrittura, andiamo. Luca 18.1 Propose a loro questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Luca 18.1 Quindi, capito, Gesù vuole che meditiamo su di Lui, su Dio. E come fa a sapere se la meditazione è giusta? Se va secondo i parametri della scrittura. Ok, ok. Non puoi sbagliare. Allora, la meditazione è importante. Cioè, se mia moglie sa che io la amo, però se viene a scoprire che medito sulle altre donne, non so se è così contenta. È giusto. Non so se è così arzilla. Dice, vieni qua moglie che ti dà un bel bacio. Oh, Mariolina, quanto ti amo. Ma il mio nome è Deborah. Ah, sì, scusa, stavo meditando. Ai, 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 ai. Capito? Cioè, Dio è geloso. Cioè, se una donna può essere gelosa, magari non gelosa di me, che non è che sono un marito di grido, però diciamo, faccio gridare a volte, a parte quello. Ma Dio è geloso. Quindi, non significa meditare e ripetere come un papagale, come fanno nelle ripetizioni di certe religioni. Chi è il primo che arriva a 500 e allora avrà un millimetro più su di un altro che arriva a 490. Ma stiamo scherzando, sono sciocchezze. Lasciate perdere le preghiere a papagallo di certe religioni. Questo non è altro che la pagina del cervello, come lo chiamano gli hindù. Karma, ripeti il karma. Ah, come i fratelli che abbiamo fatto la Skype domenica scorsa, che per 18 anni sono stati con i Hare Krishna e dicevano che due ore al giorno dovevano ripetere le mantra. Perché meno di due ore al giorno non riesce a lavare il cervello nel modo sufficiente per Krishna. Krishna è talmente sdentato, senza potere, senza niente, che se il poveraccio non si autoipnotizza per due ore al giorno, Krishna non riesce a fargli fare niente. Va bene, invece Gesù ti fa nascere di nuovo, sei una nuova creatura e sei libero. Poi, se mediti sulla parola, il Signore ti porterà i frutti. Se invece mediti sul mondo, i frutti ne porti un po' di meno. Salvo rimane. Una volta che Gesù ti ha salvato, si è salvato, punto e basta. Dio, fa quello che vuole, ridate le bugie che gli pare. La salvezza è garantita, però per avere la corona devi portare anche frutti. E come io sono il figlio di mio padre, figlio rimango, però se sono lazzarone, sperperatore, drogato, alcolizzato, eccetera, rimango figlio, ma un figlio che lui si vergogna e così sarà nel regno di Dio. Non devi lavorare per la salvezza, però se vuoi essere benedetto, sì, perché chi non lavora non mangia, dice, no? Allora, dobbiamo imparare a meditare? Sì, ma come meditava Gesù però? Cioè mettersi in spirito di amore col Signore, di modo che il Signore ci parli, che ci infonda il suo Spirito Santo. Gesù sgrida ai farisei nella Bibbia, compresi quelli di oggi, che non mancano, cerchiamo di non essere di quelli. Perché? Perché pregavano in un modo sbagliato, Matteo 6, 5 all'8, ripetiamolo, scrittura che molti di noi hanno memorizzato. Questo è solo la preghiera, questo? Sì, qui Gesù insegna a meditare, insegna a pregare, com'è che si fa? Cioè tu mediti, la meditazione è buona mentre lavori, mentre guidi la macchina, mentre cammini, mentre... Ma quando vai in preghiera con tutto il cuore, cioè che tu devi essere concentrato, non puoi essere sfasato, credere che ripeti una cantilena. No, la preghiera si fa come dice Gesù, Matteo 6, 5 all'8. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoge e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole e dei rosari. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Va bene. Matteo 6, 5 all'8. Quindi non sono i rosari cattolici, sono i rosari protestanti. Le ripetizioni, cioè. Ma la meditazione è la stessa cosa con la preghiera? Beh, per quelli là che advocate, quelli là che spingono, sostengono le meditazioni e dicono che è preghiera. Però noi sappiamo che se Gesù non è per Gesù, con Gesù e finisce con Gesù, allora la meditazione è sbagliata. C'è un modo diverso di meditare il cristiano con il pagano. Il pagano sono ripetizioni, purtroppo il paganismo si è infiltrato nelle chiese con le loro ripetizioni che fanno pena veramente. Però il cristiano prega come abbiamo appena letto. Nel pregare non usare troppe parole come fanno i pagani. Pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Cioè, tu hai sprecato, attenzione a non sprecare tutta una vita, a pregare 50 anni e hai spregato 50 anni di preghiere. Come ha detto Paolo ai Galati, avete sofferto tutte queste cose in vano? Cercavano di non sprecare una vita in preghiere inutili. I farisei pregavano più di noi e sprecarono tutta la loro vita. Vogliamo essere così? E oggi ci sono chiese che sono piene di questa gente che credono ascoltate perché ripetono Io sono Dio, non ho bisogno di dormire, non ho bisogno che c'è chi fa me addormentare col tuo rosario. Si addormentano alla sera questi religiosi ripetendo preghiere. Non servono a niente. La migliore preghiera è addormentati amando il Signore Gesù. Parlagli, dagli il tuo cuore, digli quanto lo ami. Alleluia, anche quando bacio mia moglie, l'abbraccio, dico grazie Gesù. L'abbraccio, dà un bacio e dico gloria al Signore, grazie Gesù. Perché quella mia moglie esiste per via di Gesù. Lei è un pezzo di Gesù, una rappresentazione e lei è una cellula di Gesù. Sto amando Gesù quando amo lei, quando amo lei amo Gesù. E' specifico il nome Gesù e Gesù. Lo facciamo tutti e due. Va bene? E gloria a Dio. Vediamo i risultati. Alleluia. Dimmi. Quindi tu dicevi che Gesù dice in Luca 18 pregare sempre e non stancarsi. E questo si fa nel tuo cuore meditando a Dio, a Gesù, parlando nel tuo cuore con Lui. Quella è meditazione? Quando è fatto il nome di Gesù, sì. Se Gesù è dentro, sì. Ok, ho capito, sì. A volte la mia mente mi dà fastidio, è sconnessa dallo Spirito di Dio. La mia mente carnale a volte mi tortura, il nemico la usa per tormentarmi. E allora cosa faccio? Immediatamente, alla velocità del suono, della luce, alla velocità del pensiero, passo la mia mente a pregare in lingua. E il diavolo non ci capisce più niente. Io cerco di mettere in confusione a me, io metto in confusione a lui, perché prego in lingua. E il diavolo sparisce. A volte è sufficiente 5-10 secondi. Non mi piace neanche lì ripetere per mezz'ora, no? Ma per cosa? Io devo, il mio tempo è disoccupato di amare il Signore, non di ripetere. È importante che impariamo a pregare. È importante che meditiamo la maniera di Gesù e non la maniera delle religioni. Altrimenti sprechiamo la nostra vita a pregare o a meditare nel modo sbagliato. E non siamo meglio dei farisei. Tutto il capitolo di Giovanni 17, l'abbiamo già studiato in passato, Gesù ci insegna a pregare nello Spirito Santo. Come? Basta leggere Giovanni 17. Gesù semplicemente parlava con il grande Padre Onnipotente in cielo. Parlava, gli parlava, articolava un discorso. Io non riesco a pregare senza fare un discorso. Non ci riesco. A volte anche Angelo mi sgrida. Dice, ma tu hai cominciato a pregare e ti sei messo a predicare? È così che non riesco a fare altri. Non ho mai imparato a pregare in ripetizioni. Mi spiace. Capito? Grazie a Dio che non sono cresciuto religioso. Perché mi addormentano, le mie preghiere mi addormentano. Immaginati come Dio si annoia. Pregare e meditare, non nello Spirito Santo, non nella mania di Gesù, facilmente ci apre a spiriti diversi dallo Spirito di Dio. Quindi riceviamo spiriti diversi. Diventeremo pieni dello Spirito o di spiriti ai quali stiamo pregando. Il diavolo è un assofatto, un drogato. Il diavolo è drogato e ha di adorazione. Vuole essere adorato. È un maniaco dell'adorazione. La vuole rubare a Dio a tutti i costi. Per questo che ti metta la statua così, la statua cos'ha, il santo così, il santo cos'ha. Devi venerare di qui, venerare di qui. L'importante è che non sia Gesù. Portarsi riesci a, come si dice, hijacking, sviare, sviare la tua loda, la tua concentrazione su una statua, su un altro nome, su un Giovanni Battista, un Paolo, una Madonna, un San Pietro. Ah già, è una mezza vittoria. Non è Gesù Cristo. Perché né Madonna, né San Pietro, né San Patio, ne daranno mai niente. Non possono darti niente. Tutto il loro potere è in Cristo. Stai prendendo l'allungatoia, non la scorciatoia. C'è solo una scorciatoia in cielo, si chiama Gesù. Le altre sono allungatoie. Allora, quando preghi in modo sbagliato, come appunto qualche statua di qua e di là, preghi in una statua non è tanto perché, perché anche noi abbiamo la Bibbia a fumetti qui per i bambini, Bibbia a fumetti. Ci sono immagini. Ma è diverso quando devi pregare a una statua. Perché lì ci può essere tranquillamente uno spirito, un diavolo, e stai pregando al diavolo. Per questo è che non vedi mai miracoli. C'è la televisione, non vedono miracoli, stanno pregando in modo sbagliato. Allora, in quella statua ci può essere un demone. Spesso perché i diavoli lavorano legalmente. Cioè, il diavolo ha l'autorizzazione legale, dal punto di vista scritturale, di farsi adorare e arrivare, in certi casi, a possedere la persona che prega alle statue o oggetti come talismani, articoli vari di maghi, eccetera. Capito? C'ha un diritto legale il diavolo. Legale. Perché? Perché quella persona che sta venerando una statua e sta disobbediendo la parola. In virtù della disobbedienza, il diavolo ti può possedere o perlomeno opprimere. Apocalisse 22, cosa dice? Che pregare in maniera sbagliata, nel modo sbagliato, uno può riempirsi di qualunque cosa sbagliata. Adorate Dio, dice. C'è l'Apocalisse 22, 8? Apocalisse 22, 8 e 9. Ecco, vai lì. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse, l'angelo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Capito? Apocalisse 22, 8 e 9. Ora il diavolo dice, eh ma tu, tranquillo, non mi che stai adorando la statua. Lai stai solo venerando. Che caspita di differenza è? Scusa, che differenza è? Io sto venerando e non adorando. C'è nessuna differenza. Ti metti in ginocchio a venerare, in ginocchio ad adorare, che differenza è? E' una presa in giro, fratelli, protestanti e cattolici che siete. I protestanti adorano, venerano il loro tempio. Il tempio, il santuario. Ma qual è il santuario? Santuario. Cari fratelli protestanti, lasciatemi informarvi dalla mia ignoranza. Il santuario, ce n'è solo uno. Ed era quello in Gerusalemme, che non c'è più. E adesso, primo corinzie 3,16, il santuario, il tempio, siamo noi. Perché in noi vive lo spirito di Dio. In quell'edificio, che è chiamato il santuario, è un mobilificio. Un mobilificio pieno di panche. Dio non ci abita, che non è una statua protestante che si mette dentro. Dio non abita, come dice nella Bibbia, Atti 7,48. E lo stesso, è la stessa valga per i fratellini amati cattolici. Lo stesso. Dimmi Angela. Sì, voglio tornare. Vedo che mi fai segnali di fumo. Sì, sì. No, ho capito un po' sulla meditazione giusta, meditazione sbagliata. Però torno alla domanda di Carmen. Nel suo caso, è giusto o sbagliato? Perché lei dice, per tanti anni sono stata una olistica neuropata, e quindi mi occupavo di meditazione. Questo entra nella categoria di meditazione buona o non buona. Io non so cosa è la olistica naturopata, l'ho messo in Google, e dice, è una... Vedete, queste parole veramente sono una cosa, giusto per portare confusione, hai sempliciotti come me che hanno il cervello, diciamo, sempliciotto. Cos'è che dice il glu glu? Olistica naturopata è una disciplina che mira ad eliminare squilibri, malesseri e malattie che affliggono l'essere umano, e si basa su tecniche bioenergetiche e nutrizionali, e ha una visione olistica dell'uomo. Visione olistica vuol dire, cioè, una autoguarigione allineando corpo, mente e spirito. È finita. Sì, è finita. Per cortesia non mi farate ridere olisticamente, eh. Ma come il tuo corpo si autoguarisce? Sì, d'accordo, un raffreddore, un colpo di tosse, un cancro benigno. Ma, cioè, se non c'è Gesù Cristo, cioè, da un cancro maligno o da qualche accidente che qualche strega ti ha mandato, se non c'è Gesù, non guarisci mica, eh. Se tu attraversi le strisce perdonali senza guardare, la macchina ti fa diventare tendere a strisce. Guarda, queste qui sono cretinate del diavolo. Ma scusa, ma non vedo Gesù Cristo, non vedo Gesù, non vedo la Bibbia, non vedo il Vangelo. Cioè, queste qui, è logico che ti sta portando fuori dal seminato. Questo qua, ma certo ti aiuterà, perché Dio ha creato un corpo meraviglioso, che si guarisce da solo. Ma senza Gesù non è che il corpo si guarisce sempre da solo. No, no. Qui ci vuole Gesù. I miracoli che assistiamo, gloria a Dio, anche tanti, non è che vengono perché il signor olistico è arrivato. Anche prima dell'olistica la gente guariva. Tante malattie naturali, tante, non tutte, tante. Il corpo è creato in un modo meraviglioso. Adesso arriva un diavolo che si chiama olistico e dice, gloria mia, come ti chiami? Olistico. E allora veneriamo l'olistica che dentro c'è uno spirito. Quindi, meditare a queste cose per allineare il tuo corpo, mente e spirito, dici che non è da Dio. Ma quello è una sviarsi dal Vangelo. Ok. D'accordo? Capito. Ecco, diciamo, accorciando la storia. No, ma sono d'accordo. Sono d'accordo perché la meditazione è molto usata da tante religioni, specialmente i New Age, e usano anche energie che non vengono da Dio. Ci sono energie che è satanica, eh? Cosa significa energia? Risveglia l'energia in te, cerca la verità in te. In me non c'è nessuna verità. Io sono un bacucco. Io sono nato schiavo del peccato. Che verità da scoprire in me? In me scoprirò l'inferno. Andate Gesù Cristo. È lui che è risorto. Angela, prendi il microfono. Io credo che è molto pericoloso, infatti, perché a volte entrano in altre dimensioni spirituali con queste energie, dove è anche pericoloso andare senza la protezione di Dio. Caspita, c'è stata Eva che è andata in una oloculistica malefica e si è mangiato un frutto che non doveva mangiare. Il diavolo gli ha detto questo qui è roba oligolistica. E lei dice, ah sì, interessante. Aspetta che mangio subito. No, caro, no, 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 non abboccate all'esca. Rimanete nella strada stretta e diritta. Oh, destretta and the narrow. In Jesus' name, amen. Praise God. Infatti, io ho evangelizzato diverse volte persone che mi parlavano proprio così. Devi sviluppare il tuo psico e sviluppare te stessa, scoprire il tuo interiore. Era una persona piena di amore che parlava in modo così positivo, sembrava che vuole veramente edificarti. Era così facile essere ingannato. Mi ricordo che non sapevo come rispondergli, però il Signore mi ha inviato una scrittura nella mente che mi ha soccorso. E' quella di Giovanni 3,30, che dice, bisogna che Gesù cresca e io diminuisca. Quindi Giovanni Battista e la sua acqua diminuiscono. Gesù Cristo, lo Spirito Santo aumentano. No, per me in quel caso non era sull'acqua. Era sul fatto che io non devo sviluppare me stessa, scoprire me stessa, diventare più grande, più piena di doni. No, io devo diminuire. Gesù deve essere visto in me, non io. Io devo sparire e la gente deve vedere Cristo in me. No, possiamo crescere nei doni, basta che siano per la gloria del Signore. Sì. Niente di male desiderare più doni. Io ne desidero più doni per la gloria del Signore. Per sedere Dio, sì. C'è altro qui? Quindi la meditazione non è necessariamente sbagliato, ma devi meditare dentro la Bibbia, cioè nei limiti delle scritture. Allora stai in sicurezza, se no entri nelle cose che vengono dal diavolo. Sì, quando capita che leggo qualcosa, un articolo, un libro, eccetera, io basta che la prima pagina, prima mezza pagina, tre quarti di pagina, non vedo niente che guida verso Gesù e chiude il libro. Questo è solo una perdita di tempo. Si addentrano in cose complicate, misteriose, affascinanti, sì. Però anche il diavolo si presenta da affascinante. Va bene, Angelina? Sì, va bene, va bene. Va bene. Presto, Lord. Credo che abbiamo risposto a Carmen. In due parole possiamo dare la risposta che la meditazione è una cosa positiva se viene usata per la gloria di Dio dentro le scritture, nei limiti della Bibbia e non meditare alle cose fuori dalla Bibbia che sono filosofie moderne, cose inventate dagli uomini che non hanno come centro e fondamento Cristo. Se non hanno il fondamento Cristo sei su un territorio pericoloso. Giusto? Ebbene, guarda, ti do una scrittura, posso? Sì. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ma anche loro meritano cose positive. Sì, sì, però si dimenticano una piccola virgola che si chiama Gesù Cristo. Capito? E quello è il punto di identificazione. Io, quando medito queste cose, devo essere partire dal nome di Gesù, continuare e terminare nel nome di Gesù. E questa è la differenza. Quindi... Sì, perché il diavolo si presenta come un angelo di luce, con cose belle e positive. Però Gesù, no, Gesù non lo vuole. Sì, tutto tranne Gesù, perché Gesù lo sconfigge. Qua una volta evangelizzano le strade e dicono, senti, lascia da perdere un attimo la religione. Ho ricevuto una lettera, una persona che mi ha detto, guarda, lascia perdere Dio, la religione, parliamo da uomo a uomo. Ma no, 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 caro. No, scusa tu. E scusa tu, come se tu mi dici, andiamo a combattere. Però tu per favore mi fai un favore. Sì, cosa? Tu metti da parte la tua spada, il tuo scudo, la tua corazza, il tuo elmetto e facciamo da uomo a uomo, così che io ti ammazzo subito. Ah, come sei intelligente, signor diavoletto. No, caro, io non lascio assolutamente, anzi, compiuti da fastidio il Signore, compio io in un modo o nell'altro, andrò da Lui, nel suo nome. Avanti, Angela. Amen, amen, grazie Gesù.